capisci? tu, lui l'ha fatto lento lento un pelino di più c'è di qua così deve essere se è basso tanto c'è quello dopo che ti accompagna e qua devi già partire da lì ma è più facile quello che il tronco, il tronco è più facile, va accompagnato, fa solo schiena in pressione perché fa solo in pressione, devi farlo come l'ha fatto lui, non esagerare a gasare sul sasso perché è piegato e c'è una porta fuori è uguale, tanto guarda è una salita, non è una cosa... devi marcarla col cervello che è una salita ascolta come lo fa lui devi impararlo come fa questo, così lo fa giusto e lui usa tanto il peso eh, tutto quello non riesco a fare troppo grazie